Ancora un istante, che devono sistemare... Via! Partiti! In vantaggio la guerra continua davanti alla bella Laura ricattatrice Kojak, Inozner, Pirlofmoni e Guaspa Forever. All'inizio della curva passa ricattatrice davanti a Kojak, la bella Laura Inozner, poco prima dell'ingresso in vantaggio ricattatrice davanti alla bella Laura Inozner e la guerra continua. I cavalli entrano in dirittura con ricattatrice in vantaggio davanti alla bella Laura Inozner, Kojak a centropista. La guerra continua è sempre in vantaggio ricattatrice, davanti alla bella Laura Kojak, la guerra continua, più staccati Inozner, passa Kojak davanti alla bella Laura ricattatrice e la guerra continua in vantaggio Kojak davanti alla bella Laura e la guerra continua. La zampata di Kojak, ma subito da linea allo studio! e la guerra continua in vantaggio in vantaggio in vantaggio in vantaggio in vantaggio. e poi presentazione con il fiore di Gesù,